There's no bass I'd rather be Grazie a tutti oggi siamo qui tornati con un nuovissimo blog di tantissimo tempo oggi siamo qui per affrontare un blog In questo giorno al backstage ci sta debora De non so quale canale che non so che c'è staffa qua e pubblico star carissima andrea de fiducia Questo momento il backstage è vuoto quindi Non so che ero accomodati però tipo loro Sincero io non entrava perché sono troppo vissile ho appena comprato dei schifosi mi cado Alte perdi e fanno letteralmente Cagare mi sono messo sta maschera suonare che non posso manco fare la passeggiata che ogni tre secondi c'è Guardate che soggetto Guardate che soggetto Tutta la fiera Questa maschera e il cappello Cioè dopo il top io Il top del mascher Scheraggio Come si chiama il canale te? Povettino la sabrutta Cioè ragazzi sti patiglioni sono tutti uguali Tutti fottutamente uguali Vendo tutte le stesse identiche cose Dio mio Guardate che amo quando mi fermate Però quando io farmi una passeggiata Oppure parlare con una persona È un pochino un casino quindi io ho trovato questo piccolo rimedio commentario Comunque faccio troppo brutto così eh Non per dire però faccio veramente bruttissimo Cioè io mi metto la maschera Fammi riconoscere loro urrono Sivi Dio boh Anne Nessuno che mi ha riconosciuto la maschera Comunque sta succedendo il panico Perché un certo pure che la maschera mi riconosce Io non lo so come fate però E' volata la telecoma Vabbè è un buon 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 Ragazzi Alessio coperazzato Io ho entrato dalla via di casa Oh mio dio Ma ragazzi qui c'è sta colui che urla Ma ragazzi qui c'è sta colui che urla Non mi ha fatto sempre un reaction Ma da fu Reaction Ma ragazzi Guardate chi c'è sta colui che ancora non mi ha fatto un video contro eh No no si è noto eh Eh Ecco visto E' in video E' tutto in video Anne vedi dilla chi c'è sta oh Anne vedi chi c'è sta Fai il saluto Ah Questo è un addio non è un saluto Ma come la vita è pronta la vita è bella Vabbè va Guarda un po' che spettacolo Così mi pare dei brufoli oh Pimbi Aiaa Le ho spaccato il centro nasale Sai è un fallito che caspita dei vlog Chi mi guarda nessuno A monte, ma sempre te ci sta in mezzo, qualsiasi cosa, ci sta sempre lui Vabbè, va, quanto è Monte, ancora a rubà, ma basta Ma regà, scontro Epico, mi madre, che flammaco hai, don mio Dio, flame Regà, ci sta pure Air Fonder C'è sta Air Napoletano Regà, Fonder e Capobuilder per la prima volta assieme C'è sta Napoli davanti, io c'è Napoli davanti all'anno Discrivetevi, allora siamo qui con una bustata, è una pulla, mi raccomando, è un'altra su Fair Games Questa cosa, per me, per me, miniatura e dici ho picchiato un mio fan, hai a portami all'ospedale, vedi tutto vero originale Si, che fake Quanta qualità, ma io non ho capito, sti gorillo umani che caspita stanno facendo Ma ci dovevi dire le ultime parole Comunque ripeto, mc.fairgames.it E ce la fa Ok, ora voglio mille, 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 cento like Per Amil Salute Antonio Vabbè, tanto noi registriamo perché è bello Ah, regà Cioè, mi sarà fermato Il telefono là, mi sarà bloccato Non lo trovo più, stavo là sopra Beh, dimmi che cosa Iscrivete tutti quanti a Dario Mastro, canali consigliati, in descrizione assolutamente Lo dice anche lui, vero? Ma quando è che te lasci con l'Au? Quando è che te lasci con l'Au? Ma quando è che te lasci con l'Au? E trovo che ti lasci con l'Au? Ah, bravo Ah, 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 oh BASTA! Così poveri dei scritti che hanno cacciato il backstage, insieme a lui Che è ingenue Regà, fate, regà, fate Regà, forse si vedremo per l'ultima volta con Mastro, non è vero, poi si vedremo, però Ma poi sei gli scritti all'Au? E niente Io lo saluto a Mastro Ciao, Lau Sappi che prima o poi me lascerete Ciao, Alessio Mizzano Oh, basta! Madonna, regà, sono stanchissimo È tutto il giorno che sto in giro a fare foto e tutto Organizzazione penosa Zoomata? In tutto ciò mia madre mi sta provando un panino al salame E in più oggi le hanno regato il suo primo cartellone Cartellone è di mia madre Guardate come fa finta adesso i VIP che fa l'autografi Guardatelo, 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 guardatelo Eh 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 Oh! Ma te sei quello del grattevinci Oh! No eh! No! Ma lei è la madre di quello del grattevinci Ma lo sai che Sofia è proprio una pallita Sì, il canale è morrente Infatti io sono più brava di lei Regà sono uscita per 5 minuti Ho conosciuto Chiana Paradisi che è una ragazza fantastico E mando un bacione veramente enorme Ma... Ma... Ah! Deadpool! Ah! Questa cazzone mi sto decisamente addormentando Oh oh ok no! Ok regà allora si mi sta addormentando E ora va Regà si è andata è morta Oh mio dio! No Regà non ci credo Non ci credo Lei sta facendo costruito No Regà, ti stai facendo costruito Regà, allora vai Regà, ma non ci credo Regà, ma non ci credo Regà, pressa Regà, ma non ci credo Regà, regà No regà, non ci credo Regà, non ci credo Porco dove mi fanno tanti forzati a scuola e ho detto oh vai, non so chi è che mi lancia queste cose, ma sono tipo 20 volte, ma una quindicina che mi succede, non sto a scherzare. Siamo anche i morti. Guardalo come non si fa vedere. Con un calcio nell'ovaio veramente, porco dove. Ti faccio più male io con un calcio semele, ciccio. Valerio. Basta. L'altro giorno ce l'ho provato io, ma è finito con la visiera perché non sei capace. Ma che bravo. Ma perché? Perché Valerio? I problemi, non pare. Ma tanti. Eh, lo so. Ragazzi, giornata divertentissima, è la prima giornata del romics, è andata stra bene e detto questo vi auguro buonanotte, sono le 21 e 24, ma sto letteralmente morendo. Sono più di 24 ore che non dormo e niente, buonanotte. Buongiornissimo, sono le nove e mezza di mattina, sono qui nel backstage del romics da sola per il semplice fatto che io sono una vippona di quelle veramente grandi e sono riuscita a passare tutta quanta la fila con il pass per il backstage. Sto aspettando che arrivino Sespo e Monte perché oggi alle 11 abbiamo da fare un bello spettacolo barra challenge sul palco del romics ed è un'emozione grandissima perché io non sono mai salita sul palco del romics e quindi... Poi volevo dirvi che io sono talmente sveglia che questa mattina quando sono uscita di casa tipo alle 6 e mezza mi sono dimenticata la mia Canon. Quindi, buon nel cuore che mi si stringe, vi dico che dovrò fare il continuo di questo vlog con il telefono. Io odio fare i video con il telefono, quindi capito la mia situazione. Volevo ringraziarvi perché ieri siete stati veramente inattissimi. Ragazzi, vi giuro, non mi aspettavo così tante persone mi hanno riconosciuta. Ho passato 9 ore qui fuori, ma non fuori, qua fuori con le transgene, proprio dopo le transgene, proprio abbiamo battuto le transgene, 9 ore con voi. E boh, raga, sono sfinita, infatti si vede dalla mia faccia e dalla mia voce. Monte mi viene in giro perché io faccio i vlog col telefono. Che fa? Che fa? Oh! Si si sente. Oh, ciao. Cuccio. Mamma mia, che fallita, raga. C'è loro con queste cose così attrezzate, io col telefono, perché mi avevo scordato la Canon. Comunque oggi alle 11.20 c'è un mostro spettacolo, con i peperoncini e niente. No, t'ho leccato lo schermo veramente. Mi hanno messo qua così tipo riciclo. Mi ho freccato Valerio, ragazzi, mi ho freccato Valerio mentre dormì. Oh! Ciao ragazzi, io sono Simichon, ho cambiato sesso. Ciao ragazzi, io mi chiesto di fare un video su Roby. Ciao, ciao! Ciao! Non da salutare. Quindi, lei, niente. Ciao! Non mi allargare, faccio. E invece lo faccio, ti allargo e stringo. A voi salvi, questo disegno è veramente bello, vorrei ringraziare Salvatore per avermelo regalato. Veramente un grazie gigantesco. È finissimo, io non c'è Camilla che rovina tutto, tutta la zonfera è nominato. Che siete? C'è sonno. C'è sonno. Dov'è Alice? Alice! Ciao! Mi sono tipo lanciando un palloncino su un video di un'autocamina di youtuber e... Diciamo che lo beccherà. Io c'ho sonno. Cioè, ieri mi sono addormentata su sti cosi, però oggi, ragà, veramente, c'ho sonno. Poi mi è spucata una bolla a dar nulla, Valerio, fai qualcosa. Non c'è sta più nessuno. Direi che sto Romics è anche bello che è terminato. È buono, è buono, è buono. Non c'è posso tempo. Questo è certo. Quanto? Sono un idiota, non c'è la scarpa da sola. Sono veramente... Stupida! È una stanchezza, ti fa dire cacchiali. BAH! È caldo, non mi inquadri. Ho avuto proprio... Il labo può solo accompagnare. Factor nel cuore, sentite. Facciamo i giuri di X Factor, ecco. Siamo in autobus. Non c'è più Gesù? Sì? No. Sì? No. Sì? No. Non so cosa è successo ieri. Vi spiego. Abbiamo preso l'autobus per tornare a casa. Quando sono tornati erano tipo le nove. Mi sono un attimo, un attimo, un attimo proprio sdraia sul letto e mi sono risvegliata adesso che sono le dieci. Qui, quindi, ero leggermente stanca. Ma poco, poco. Ma pochissimo proprio. I miei capelli sono sempre molto ordinati. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto in qualche modo. Scusatemi se ho dovuto continuare con il telefono, ma mi ero dimenticata la Canon qui a casa. Detto questo, sono anche senza voce perché questi giorni veramente sono state giornate molto impegnative. Ho fatto tutto quanto lo spettacolo sul palco. E niente, mi sono divertita veramente tanto con voi. Mi avete fermato in tantissimi. Ancora vi ringrazio. Mi mando un bacio. E detto questo, io direi che ci becchiamo al prossimo video. E niente, qui dalla vostra Silvia è tutto. Vi mando un kiss. Ciao.